Gentili amici di Riviera24 e Saint-Raymond a tutti, buonasera, ben ritrovati. Siamo sempre in alta pressione, però la massa d'aria è un po' umida e ogni tanto ci scappa qualche addensamento nuvoloso, ma del tutto innocuo, almeno fino a tutto giovedì. Invece per venerdì transiterà da nord e nord-est una debolissima perturbazione e questa qualche goccia la potrà dare, qualche sporadica goccia, niente di più. Anzi, direi che parecchie località resteranno all'asciutto. Poi, da sabato in poi, di nuovo torneremo in alta pressione. Poi vedremo la cartina proprio per venerdì. Io direi che fino a tutto giovedì io do un cielo sereno, poco nuvoloso, solo temporaneamente nuvoloso, senza precipitazioni. La visibilità orizzontale buona o discreta per una leggera foschia e le temperature ancora lievemente superiori alla norma del periodo. Prima erano molto superiori, ma adesso ci limitiamo a lievemente superiori. Vale a dire, di notte la minima sulla costa fra 6 e 9 gradi, le massime del pomeriggio direi fra 14 e 16, localmente 17 gradi. Il mare adesso è ancora a 15 gradi. Moderati, una direzione predominante da nord-est, con il mare quasi calmo, poco mosso, sotto costa, tra poco mosso e mosso, però, sulle zone del largo. Vediamo adesso questa giornata di venerdì. Venerdì alle ore 12. Lo vedete questo fronte che svolazza qui in un campo di alta pressione, quindi già questo è indice che sarà molto debole, però scende in questa direzione, tra nord e nord-est, proprio imbrigliato in questa circolazione anticiclonica, quindi verso sera o nel tardo pomeriggio sera, potrebbe dare qualche sporadica goccia, non di più. Rinforzerà un po' il vento dal nord-est, fino a 20-25 nodi, con il mare mosso in costa, molto mosso fuori costa. Le temperature, visto che si tratta di un fronte freddo, potranno accusare un grado, massimo 2, di diminuzione, ma solo per venerdì, perché da sabato in poi, pian piano tornerà tutto il campo anticiclonico con temperature di nuovo un pochino in aumento. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione e buona serata.